Bene ragazzi, bentornati finalmente sul mio canale, dite la verità, avete sentito la mia mancanza in questo fine settimana, ma non vi preoccupate perché oggi sono tornato in pompa magna per portare un video che mi è stato richiesto tra i commenti e chi sono io per dire di no, quindi eccomi qua con la migliore mod per i vestiti su Cyberpunk 1777, in realtà mi hanno chiesto fai un video sulle migliori mod per gli abiti, ma in realtà su Cyberpunk io penso sia fondamentale una sola mod e sto parlando di questa, armadillo. Armadillo è una mod che potete trovare in svariati modi, comprandola, trovandola in giro per i cadaverozzi che lasciate sulla vostra strada, oppure craftandola, noi andremo a fare questo terzo metodo perché è quello più semplice, e per farlo intanto spostiamoci su Cyberpunk e vi spiego cosa fare, ed eccomi qui su Cyberpunk, come ho detto andremo a craftare questa mod d'armadillo, ma prima ragazzi ascoltate bene quello che ho da dirvi, perché se fate arrivare questo canale a 200 iscritti entro le 8 di questa sera, vi carico subito alle 8 spaccate, non alle 8.01, non alle 7.59, ma alle 8 spaccate il video su come trovare il completo full leggendario della saga su Cyberpunk 1777, facciamo il bis oggi. Quindi, cosa sto aspettando? Iscrivete al canale, attivate la campana di notifiche, così non vi perderete quest'altro video che uscirà oggi se lo vorrete, perché se lo vorrete vi iscriverete e fare di uscire il video, se no no, sta a voi questa volta. Quindi, eccomi di nuovo su Cyberpunk, nel luogo in cui ho fatto la copertina dell'ultimo video. Allora, per questa cosa dovremmo sbloccare alcune cose, dovrete aver livellato un pochino, altrimenti dovete andare nei negozi e cercarla. Innanzitutto, andate subito sul vostro personaggio e dovete avere almeno 12 di capacità tecnica per aver sbloccato dal nulla. Dal nulla è un'abilità che vi permette di craftare oggetti dal nulla, appunto. Quando, diciamo, andate nella modalità creazione, create un oggetto, con quel potenziamento avrete una probabilità di creare un qualsiasi oggetto che potrebbe essere comune, raro e epico, non leggendario, tutto tranne leggendario. Però, appunto, potreste avere questa possibilità di craftare questo oggetto dal nulla e averci questa cosa. Ed è proprio quello che andremo a fare, perché io qui ho il progetto armadillo comune, piccole irruzioni a parte, dicevo. Praticamente crafteremo questo oggetto e ogni tot di oggetti con una percentuale di fortuna ne crafteremo uno epico. Allora, premettiamo subito che questa cosa funziona, però dovete avere degli abiti che vi permettono di metterci delle mod. Il top sarebbe averci tutti gli abiti leggendari, se non sbaglio se è la giacca ha 4 slot, i pantaloni 3 e lo stesso dovrebbero essere le scarpe, scusate. Poi maglia, maglia ce n'ha 1 mi pare, gli occhiali ce n'hanno 3 massimo, va bene. Voi dovete mettere armadilli epici su tutte queste cose e porterete il vostro abbigliamento ad un livello di resistenza fuori dal normale. Quindi, se non sapete come recuperare quel progetto armadillo, potete andarlo a comprare da un venditore, non c'è problema. Bene ragazzi, ora andiamo a cercare una location per questo video e quale location migliore dell'interno di uno yacht super costoso da mega ricco. Allora, praticamente vi ho detto che avete bisogno di 12 capacità tecnica per sbloccare quella cosa, ma è anche vero che il completo fa la sua parte, perché se è leggendario, oltre alla protezione che vi offre il completo, ci aggiungete anche le armadiglie diventate invincibili praticamente. Quindi, se ne andiamo nel nostro inventario e ci troviamo le giacche e tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi in questo momento io userò questa. Bene, quindi in questo momento ho una quantità di slot a mia disposizione pari a 14, che può arrivare fino a 20, in teoria. Quindi, andiamo avanti e spostiamoci sul nostro inventario nella parte creazione e incominciamo a craftare armadilli. Quindi noi incominciamo e tra un pochino dovremo ricevere una percentuale di armadilli epici. Quindi ci vediamo tra un pochino. Bene, ragazzi. Ho praticamente farmato talmente tanti armadilli che sono andato a finire il livello dopo della creazione. Ma è servito, perché guardate qui, ora nel mio inventario, tra le mod ci sono tutti questi armadilli epici che mi hanno troppato, grazie a quell'abilità tecnica che vi avevo fatto vedere prima. Benissimo, quindi adesso incominciamo. Sostituiamo questo. Oh, yes. Ah, non vi ho fatto vedere. Adesso di guardia abbiamo 714. Quando avremo finito con gli armadilli? Vedrete quanto ne avremo. E già ragazzi potete notare come in un batter d'occhio da 710 a un vostro A3280, che non è poco. Poi con l'armadura che vi farò vedere questa sera, se vorrete, se vi sarete iscritti, o nel prossimo appuntamento arriveremo ancora più su. Perché poi potete potenziare i vostri abiti tramite l'inventario di creazione. Potenziamenti, andate a ricercare gli abiti che avete in questo momento addosso, potenziate e andate ancora di più, ancora di più e potete arrivare fino a un massimo di 6.000, mi pare. Quindi, andiamo subito a testare questa cosa, vediamo se è vero che ci offre tutta questa protezione. Quindi ragazzi, ora potenzialmente avete tutta la corazza che vi serve per resistere a tutti i colpi che volete. Guarda, vedete? Non ci fanno praticamente nulla questi. E adesso so che qualcuno di voi mi farà questa domanda, che è del tutto legida, è giusto farla, perché qualcuno mi dice Cosa ne facciamo, guardate, tutti gli armadilli che abbiamo nell'inventario? Ebbene, potete regarvi un qualsiasi venditore. Andate qua. 3Mod. E vi vendete gli armadilli, tutti quelli che avete. Andate qua, vendete tutti quelli bianchi, quelli verdi, tutto quello che volete, li vendete. Oppure semplicemente aprite il vostro inventario e li smantellate. Così rifate anche altri oggetti. E smantellate, 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 così potete craftare altra roba. Quindi, per questo video è tutto, io spero vi sia stato d'aiuto e, ragazzi, ricordate, se arrivate a 200 questa sera, vi corco l'episodio in cui entriamo a recuperare il completo dell'Hara Saga, che quello è devastante. Mamma mia, poi con questo video, più quello che uscirà, ragazzi, diventerete quasi invincibili. Poi, più tutti gli altri video che vi ho portato sulle armi, salite Terminator. John Rambo non sarà più nessuno a confronto a voi. Quindi, io vi saluto, spero che vi sia stato d'aiuto e, come sempre, ci vediamo nel prossimo video.